azione giocare abilità coordinazione i, a, sen, z, u, yo, c, va, zio, s, a amicizio arte interno meditazione meditazione armonia energia legume c'è no netta aria in yang siamo di fronte a un momento che nessuno di noi si aspettava siamo al limite delle nostre risorse economiche e soprattutto siamo al limite della nostra sopportazione psicologica bene questo momento non deve essere per noi motivo di disperazione motivo di rabbia motivo di paura da praticanti di confu, da guerrieri che lottano per la pace da praticanti di arti marziali di qualsiasi genere abbiamo bisogno di portare avanti una lotta che venga sempre supportata e illuminata dal nostro cuore che è una fonte inesauribile di amore e quindi di coraggio in questo modo qua continuiamo a lottare per noi stessi e per i nostri cari per le persone che ci vogliono bene perché sì è vero che in questo momento siamo tutti quanti divisi ma è anche vero che siamo tutti quanti divisi e quindi Grazie a tutti.